Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Nuovo video, laviamo piatti insieme, bene dite? Mettiamoci all'allenante a lavare i piatti, ok? Intanto vi stiamo un po' di tutto, va bene? In questo caso, in questo caso, il mio spunto sarà un punto di vista per il conto, per uscire a trovare il rapporto città. Ed è difficile, non dovrebbe essere un lavoro, ma sarà davanti per Dio. Non pensa a quanto avrà un lavoro, i governi e i propri genitori, essi fanno una guerra senza nessuna sussa di due, tra le altre non ci sono. Quando il tempo lo sottisca, non potete trovare un altro spettacolo che è il motivo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... adesso... questo... se... è... ... è... ... 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 douglas queste sono delle sfogliette mi sono state regalate sono specchiato qua dentro ho tutti i miei arnessi per fare il trucco semplice da battaglia qua dentro ho tutte le mie campioncine la mia cosa che devo utilizzare ancora questa volta lo utilizzerò non ho solo un'idea ok adesso è tutto sotto che non ne può più veramente ok quanto siamo? a 14 minuti di video non lo voglio caricare troppo lungo perchè poi non so se me lo guardate non ne ho veramente la fatta idea no non lo guardate non ne posso fare niente non mi posso costringere ovviamente ovviamente guardate è una cosa che non mi piace cosa c'era? Cosa c'era qua dietro? Cosa c'era qua dietro? C'era questo, sì Vabbè? No, guarda Sono più rincogliurita ragazzi Questo dov'è? Qua Qua Questa l'acqua la pulisco Questa è veramente molto zozza Quanto zozza Sì, vedete questo Perché con questo Mi citavo benissimo Questa microfibra Vedete perché pulisci proprio a quello Perché quello appena accennato Mi citavo ben Niente da dire Ma questo non so più dove c'è Per metterlo Però lo metterò qui Ok Bene Tanto fece questo specchietto Che sport Sono di qua Perché sono di qua Perché sono specchi Tutto zozzosi Non faccio altro ragazzi Ragazzi Sono stanchissimo Non so voi Ma sono molto stanca Aspettate che vi acchiavo Non trovo come cavolo Metterli Oh vabbè No Aspettate Vi metto di qua E faccio prima Qua sopra Sperando che mi sentite Con l'audio Che non è il massimo E niente Io alla fine Sto facendo quello che faccio sempre Il video Il nastro Ma non ho mai idea Di che video voglio caricare Anzi tra poco Devo struccarmi Perché non posso andare A letto così Mi devo assolutamente Struccare Quindi non lo so Non ho mai manco idea Di che io li siano No Non lo so proprio Che io li siano Però un tempo A struccarmi Non lo so Non ho mai idea Volevo struccarmi Sì Truccarmi Ciao Non c'è troccata Volevo struccarmi Con voi Non ne ho idea Vabbè Provo dai Provo a struccarmi Con voi Ma se poi arriva Mio nonna No Non lo fa No Non lo fa Fa tanto bene Non fa Perché se poi Mi serve un bagno Già abbiamo messo Un bagno Come faccio? Boh Non lo so Sto pensando Cosa Cosa Caspita Fare Se Convince di andare in bagno A registrare in bagno Perché sto già registrando Da prima Di Da più Di un'ora Oppure se registrare Direttamente Come si dice Dopo che ho Anzi Continua la registrazione Vado in bagno Poi vengo qua No Non fa Mi interrei Mezz'ora Anzi Più di mezz'ora Perché devo Con lavarmi i denti Tutto Non fare Comunque Niente Che dire Non lo so Se salutare più o meno Posso continuare il video Comunque Stamattina È stata una mattina Non brutta Ma di più Comunque Non vorrei dire altro Perché tanto C'è poco da aggiungere Abbiamo È mancata anche l'acqua Stamattina Tanto per ricominciare E adesso Invece Finalmente Sto riuscendo A bere Anche l'acqua E vai Anzi Per qualche mezz'oretta È mancata Se non di più E vabbè Niente E quindi Che dire Nulla Io adesso Vi lascio E Non lo so Sì Lo so Questa cosa qua Questa spirale di luce Non è bella Però pazienza Ciao E niente Ragazzi miei Ragazzi miei Baccia A presto Ciao